Oggi il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto molto importante per le Forze Armate e le Forze di Polizia. Finalmente, dopo molti anni, si riempie di risorse il significato della specificità. Un provvedimento, atteso da oltre vent'anni, come quello del riordino delle carriere, grazie ad un impegno molto significativo, 650 milioni quest'anno e più di un miliardo il prossimo anno, potrà vedere la luce per premiare la professionalità degli uomini e donne delle nostre Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, ai quali molto chiediamo e che molto danno in ogni esigenza del Paese.